Il terzo tipo di vibrato è un vibrato che potremmo dire di dito. Per alcuni è considerato un errore nel vibrato. Sfrutta il moto verticale del dito sulla corda, che quindi si abbassa e si alza, si abbassa e si alza e in questo modo crea un'oscillazione piccola ma comunque ben udibile. Come vedete in questo momento il resto del braccio è fermo, sto utilizzando solo il dito.